Dopo che la Toyota e la Nissan avevano tentato fortuna in questa gara, la Mazda, supportata da un consulente di prim'ordine come Jackie X, diventa la prima e unica casa automobilistica giapponese a trionfare alle mani. È anche l'unica volta che un motore rotativo Wankel trionfa prima di essere vietato dalla Federazione Internazionale di Automobilismo. Nel corso degli anni ci sono state numerose conclusioni della 24 ore al fotofinish. Nel 1933, quando l'Alfa Romeo domina la gara, l'italiano si raggiunge a sua volta. Abbiamo in linea un consigliere dell'amministrazione che si chiama Sergio Gessi. Buongiorno, Gessi. 400 metri. Negli anni di dominio della Ford, precisamente nel 1966, la vittoria va a Chris Heman, nonostante arrivi al traguardo qualche secondo dopo tempo. Questo perché in realtà Chris era partito in ritardo, ma era stato più veloce di Gielmo. In differenza delle categorie maggiori, i contributi di Lega sono credibili e i diritti televisivi altrettanto. Spettatori, questi sono in calo un po' da portare.